Fede? Nooo No dai E' un pazzo solo di tutti ragazzi Sono pazzo visto che sto facendo questo video velocissimissimo perchè L'ho pensato un po' tutto all'ultimo momento Mio fratello se l'ha per tornare perchè non so Quando mi manca perchè mamma va sempre tardi Like, commento, scherzo Anzi no, commento FIFA20 vai Perchè mi vengano oggi FIFA20 ragazzi Visto che ero a casa di suo cugino ho detto Perchè non ci facciamo scherzo? Ma ha scritto Amazon oggi che doveva arrivare FIFA, infatti mi è arrivato e ci ho detto Vabbè è proprio con te che vi spiacevo dei fan Quando lo spacchettiamo e dopo ci diciamo Tutto il programma di quest'anno per farci questo scherzo No? E quindi ho pensato Ma perchè non ci faccio il disco vuoto Praticamente adesso ragazzi su questa pellicola Quasi sembra nuovo E io vorrei aprirlo solo qua sopra in modo che Si vede il meno possibile che E' stato aperto e poi Lo metto col biadesivo Poi sul misgramma ragazzi ci dico Ma infatti mi hanno inviato così Mi prendo qualche scusa non lo so Adesso devo provare a fare questa cosa ragazzi Devo essere molto calmo Sto sudando per la fretta Devo mettere la condizionata assolutamente Ok ragazzi Dovrei aprire queste cose qua sopra Chi ha aperto il gioco con la PlayStation sa Il problema è che Obbligato Cioè il mettere questo scherzo è farlo spaventare un po' così Per scherzare ovviamente Però non ci riesco ragazzi lasciare un like per l'idea Così fa Oh mio dio no dovevo cacciare i miei soldi Ok forse ci stavo scendo Ecco Già stavo già a fare un casino Ahi se si acque Che cavolo ci sei Oh ecco qua Eh come sto qui male Oddio mio Non doveva andare così Lo sto facendo malissimo Cavolo Ahi se riesco a fare una cosa dritta Oh Fai una cosa dritta Oia mamma mia Che cavolo Ok Adesso dovremmo cacciarlo da sotto Non ci riusciamo Ma porco Ah non ho rotto niente Perfetto perfetto Allora ragazzi Finalmente Che bello finalmente Ok Ti faccio che non ci sarebbe Crea la tua squadra da Sony Ok Adesso mettiamo finalmente Venti alla console Allora facciamo il disco vecchio Che è Fila 19 Quindi ragazzi Addio Fila 19 Grazie per questo quanto bellissimo Esci 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 Veloce 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 Ok Adesso mettiamo Fila 20 Così il disco è vuoto E quando mio fratello aprirà il disco Vedrà che il disco non c'è Ok adesso chiudiamo Il disco ragazzi Vuoto E proviamo a fare questo scherzo A mio fratello Allora Dovevo mettere questo qua dentro Medicamente Ci riuscirò mai? Non lo so Cioè ragazzi Non mi vengono questa idea Comunque Ragazzi questo non si ficca più Forse ci sono riuscito Mamma mia Ce l'ho fatta Ma come faccio mettere il mio adesivo qua? Vabbè dai ragazzi Ci diciamo che tipo Già stava così ragazzi Non so perché Devo farli proprio piccoli 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 Devo farli proprio più piccoli ok Allora devo farli più piccoli i pezzi Che fa un casino Ok così piccoli Tutto allineato E ragazzi così sembra Quasi prendono Sicuramente non si vede niente in gambe E ora mi faccio vedere tranquilli Sto facendo una cosa veramente pericolosa Ok Ragazzi Vediamo se si vede Ecco qua Non so se si vedono i pezzi tipo qua Così Venga tutto tutto con il mio adesivo Quindi appiccica pure Non so se in gambe si vede Se non si vede Mamma mia Comunque sempre qua si prendono Quindi Appena viene Vediamo un po' come reagisce Speriamo che lo scherzo Riesce Probabilmente figo Quindi quando aprirà Vedrà che Non ci sta Che figo Quindi lo lascio qua E vabbè ragazzi Aspettiamo che viene Non pulisco tutto Siamo dopo E ovviamente Mi sembra che me l'ho già detto Come scusa ci dico Credo Si già me l'ho detto Questo B Oh Ok Ah 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 Ok Tutto pronto Tutto pronto Pazzolino Pazzolino Dai Surrè Eh C'è solo la luce Ah ah Adesso C'è Vale luce Oh Aspetta Mi puoi far abituare un secondo Sì Qui dovevi Già sta che ci sei Vando per questo Un boxing Domani Vabbè Questa pure mi vedi Che vedi affatto Ah tu sei Vabbè No E qui sta il pantalone su una letta seria No ma che Ok Ok Non so manco se ti vedi però Non so manco se ti vedi però Mi vedi che ti vedi Ti vedi Ti vedi Ah Vabbè mettiamo così Ok Ok Allora pazzolino Vabbè facciamo l'idea Ma hai già ripartito? No 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 C'è solo c'è stata telecamera Ti vedi Ti vedi quando vedi Fipa Però Mamma mia 3 2 1 E un pazzo Tutti Siamo pazzoissimi in questo Nuovissimo video Qui vi stiamo con mio fratello Pazzo Pino Bella a tutti Oggi vediamo Fipamente Vabbè qui a mio fratello E poi diciamo programma tutto l'anno Con Fipa Sì Le partite Quindi facciamo farcelo qui da te Ehm Fammi apre il disco allora Eh da la custodia Eh Facciamo il telecamera così C'è una più dimensione Più dimensionalità A questo video Registrando E qui c'è Fipa Il nostro Fipa Rendi Bellissimo Ok pazzolino Ah amici questo Fipa Rendi Dai eh Da dove inizio Da dove vuoi Vai vai Non ci credo mamma Ci vedi Vai Mamma Fipa Pensi mai in come Ma Guarda È impossibile Sei riuscì È impossibile Madonna Ti ho detto che non hai mai messo in gioco Eh sì Intenta Vai è tutto male Eh Oh Vai Pazzolino Fipa Rendi Vai Ascetto Oh Ma Prima Che cavolo Che è successo Che è successo Ragazzi Può essere che Mi sono sbagliati Può essere che diciamo Amazon Eh Non c'è sta niente Oh Vedete qui Fede Guarda Questa notizia Amazon Che hanno votato Vabbè Fede Da Noo Noo dai Noi Già ma Non ci servisco Oh vabbè Non piange Mi senti in colpa Ehi Dai Poi Dago il video C'è Ma Ma buono Vabbè Profei 19 Eh Vabbè Profei 19 Ti ho Mio Ti ho Ti ho Ti ho Ti ho Pazzia Ti ho E non piange Però Dai Non piange ma ti metti la fila o con la registrazione no che? ma noi c'è prima ma ti ti preoccupare sono andato a piangere dai voi fate che ti dicono cioè vedi è uno scherzo mi è cascato mi è cascato mi è cascato ci ho pensato alla fine e ho detto no che non fa uno scherzo ma non ti ho accorto dello scotch non ti ho accorto dello scotch l'ho messo in adesivo l'avevo riattaccato ah dai hai visto lo scotch qua ho capito però non hai visto lo scotch non hai visto lo scotch nei giochi nuovi eh si ti è riuscito facciamo vedere che gioco vincinale eccolo qua prima vendi era tutto uno scherzo ci ho aspettato tutto il tempo è riuscito ma lo sapevi vabbè partiamo allora è riuscito ma non sai che io ci tengo alle cose cioè ah devi sto piangendo mi sto sentendo in colpa oddio io ci tengo alle cose non sono fessi scherzi mamma mia è proprio riuscito bene nessuno ci ha mai detto una cosa ingene mi sono sentito male ahia cioè vi dico ora che dobbiamo ricomprare fifa 20 beh salute fanna ciao mamma mia a questo video quanti like mi hai quanti like mi hai da un video del genere è uno scherzo il primo scherzo nel no il diciannovesimo scherzo neanche lo so il numero lasciate 3 mila like è stato quincato è una scuola con la programmazione che faremo quest'anno ragazzi il foot draft con il pallone le partite le partite le partite per forza poi i cop co-op da subito le faremo subito no le state che faremo volta football eh volta football stai a piangere non ci credo ho visto che riesco a fare scherzo di eh ma come hai fatto cioè ripetterlo poi eh poi vedi poi vedi nel video perché già hai registrato da prima eh certo già l'ho fatto prima parte mia che vedivi ho fatto di come ho fatto tutto quello ahahahah intanto quello sta stanno a giocare da soli stanno a giocare mettiti questa option vabbè ragazzi non vi sia piaciuto questo video ovviamente è fin di bene eh 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 danno ma non la sto contento dai ah vatti 5 ah pollo oooh cavolo vabbè nha dai ah stai contento però vabbè nha vabbè nha vabbè nha vabbè nha vabbè nha oh tutti eh hai seguito su Instagram un pazzo vino è stato fregato vabbè dai tecnici è pazzo vino è tutto bella ahahahahahha ma è un culo aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa Grazie a tutti.